Lo studio Checkmate 025 è uno studio che è in seconda linea, ha messo a confronto il trattamento con Nivolumab, che è un inibitore del checkpoint immunitario, con Everolimus, che rappresenta un po' lo standard per la terapia del tumore del reno in fase avanzata in seconda linea. È uno studio che ha riguardato circa 800 pazienti e che ha dimostrato un vantaggio in sopravvivenza globale del farmaco Nivolumab verso l'Everolimus in maniera molto evidente, in particolare la sopravvivenza mediana è stata di circa 25 mesi a confronto di circa 19 mesi del braccio con Everolimus e tutto questo con una tollerabilità che si è dimostrata del tutto soddisfacente. Abbiamo circa il 20-19% di eventi avversi descritti per quanto riguarda quelli di grado 3 e 4 e quindi è un dato veramente accettabile, soprattutto se confrontato con il competitor che è l'Everolimus, che era intorno al 30%, adesso non ricordo bene. È soltanto il 70% pieno di eventi avversi totali, considerati anche quelli di grado 1 e 2, quindi sicuramente è un dato di tollerabilità ottimo. Sicuramente. Dall'analisi dello studio si nota come soltanto in pochi casi è stato necessario interrompere il trattamento, mentre invece anche le interruzioni sono state intorno al 50%. Questi sono dati che bene o male corrispondono con quello che noi osserviamo nella pratica clinica, nonostante credo che i pazienti della pratica clinica siano pazienti diversi da quelli dello studio, sicuramente non è una cosa, non è una vita questa, ma sicuramente sono pazienti che a volte hanno anche un peggiore performance status rispetto a quelli degli studi clinici, quindi questo dato assume ancora più valore. Addirittura io ricordo uno dei primi casi che ho trattato, in un singolo caso sicuramente non ha valenza scientifica, però ci aiuta anche, in questo caso ci aiuta a capire lo spirito con il quale bisogna affrontare anche questo tipo di terapia. Era un paziente molto giovane che si apprestava a fare una seconda linea appunto di trattamento con terapia immunologica, era un calcioma di rene in fase avanzata che aveva già fatto in prima di nessun itinib al quale non aveva per niente risposto, era un paziente pur risk, cioè a cattiva prognosi, nel quale praticamente iniziare un trattamento diventava molto importante. Questo paziente però aveva condizioni generali scadutissime perché aveva un'infezione polmonare da candida documentata, quindi il paziente è defedato. Noi abbiamo deciso di iniziare il trattamento in un paziente in condizioni generali così scadute, è paradosso, questo è più che altro una battuta, la faccio proprio perché serve proprio a strammatizzare la gestione di questi effetti, probabilmente la terapia immunologica ha potenziato anche il suo sistema immunitario nei confronti dell'infezione fungina, perché è nettamente migliorata nel giro di un paio di giorni, è certamente migliorata la sua situazione non per una riduzione della malattia, ma perché secondo me in quel caso c'è stata proprio una migliore ripresa dall'infezione fungina polmonare che aveva, non significa nulla, questo però serve a capire che effettivamente è un trattamento gestibilissimo e che lo possiamo fare anche in paziente in condizioni generali non proprio ottimali. Grazie a tutti!